E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. In questo video qua siamo nell'app del Fanta Calcio per fare il recap di questa ventesima giornata di Serie A Team. Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi e attivare la campanellina per non perdere nessun video, né su Youtube né su TikTok. Di lasciare un bel like per supportarmi, di condividere il video con tutti i vostri amici e di andarmi a seguire su tutti i miei altri social. Grazie mille a chi lo farà. Scrivete nei commenti per chi fa il Fanta se avete vinto, perso o pareggiato la giornata. Partiamo. Modulo 3-4-3. Importa Provedel che non prende gol e prende un 7 e mezzo. In difesa abbiamo veramente un Atalanta che ha fatto il panico 5-0. Abbiamo l'assess di Ruggeri che prende 8 e Colasinac che comunque prende il suo 6. Buongiorno che prende un solidissimo 6 e mezzo, peccato il giallo, se no sarebbe stato addirittura un 7. In centrocampo abbiamo Guendosì che viene ammonito e prende 5 e mezzo. Zelischi non gioca, mi gioca Brescianini che prende anche lui 5 e mezzo. Mentre Felipe Anderson prende uno strepitoso 10 e mezzo facendo il gol della vittoria dell'1-0 della Lazio contro il Lecce. Poi abbiamo Duncan che prende il suo umile 6. L'ho appena preso, cioè l'ho preso da poco con gli scambi. Vediamo se potrà fare di meglio. L'attacco letteralmente strepitoso. Tutti e tre in gol. Djuric 10, Gong 11 perché fa il gol della vittoria e Turam 11 e mezzo con gol e assist. Il mio avversario fa 70 punti e mezzo quindi fa un gol. Io faccio 88. Il record di punti mio di questa giornata, cioè di questa fantacalcio in generale. Faccio 4 gol. Il record nostro proprio di punti in questa fantacalcio di quest'anno l'ha fatto mio fratello questa giornata con 95 e mezzo. Da me è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bella! Bella!